Credo che risparmierò in direzione viaggi Rinunceri a comprarmi qualche vestito, un paio di scarpe Per esempio l'elettricità o quelle che sono l'utenza come il riscaldamento Qualche pizza in meno Aperitivi, cinema con i bambini La settimana bianca, siamo quasi in inverno Se l'anno scorso facevo una settimana, oggi faccio tre giorni Se le uscite, una volta in meno al mare, così In pausa pranzo non vado in un ristorante ma mangio qualcosa che ho portato da casa Taglierei sicuramente sull'abbigliamento e molto probabilmente anche sui viaggi, cose di questo tipo Sarebbe carino poter risparmiare un 37% da quel punto di vista, sarei felice Sarebbe una grande cosa Magari, come? Sarebbe una bella idea Non sarebbe male, 37% Sulle spese di riscaldamento non è male Dice davvero? 37% è moltissimo Questa è una cosa molto interessante Wow, sarebbe una bella cosa, sì I costi dell'energia sono enormi Quindi risparmiare proprio questo 37% sarebbe importante Molto interessante, parliamone Grazie a tutti Grazie a tutti.